Annabeth infrange le regole. Chirone aveva insistito per parlarne l'indomani mattina, che era un po' come dire «Ehi, siete in pericolo di vita! Sogni d'oro!». Mi fu difficile addormentarmi, ma quando alla fine ci riuscì, sognai una prigione. Vedi un ragazzo, vestito con una tunica greca e dei sandali, accovacciato da solo in un'enorme stanza di pietra. Il soffitto si apriva sul cielo notturno, ma le pareti di marmo levigato, completamente lisce, erano alte più di sei metri. Sparpagliate per la stanza, c'erano delle casse di legno. Alcune erano spaccate e rovesciate, come se qualcuno le avesse scaraventate a terra. Da una spuntavano degli attrezzi di bronzo, una bussola, una sega e un bel po' di altre cose che non riconoscevo. Il ragazzo si era rintanato in un angolo, era brividiva dal freddo o forse dalla paura. Era sporco di fango. Le gambe, le braccia e il volto erano graffiati, come se l'avessero trascinato lì insieme alle casse. Poi il grande portone di quercia si aprì con un gemito. Due guardie in armatura di bronzo marciarono dentro, sorreggendo un prigioniero. Lo gettarono sul pavimento e l'uomo si accasciò, ridotto in pessime condizioni. «Padre!» Il ragazzo gli corse incontro. Le vesti dell'uomo erano brandelli, i capelli erano striati di grigio e la barba era lunga e riccia. Aveva il naso rotto e le labbra sanguinanti. Il ragazzo gli prese la testa fra le mani. «Che cosa ti hanno fatto?» Poi urlò contro le guardie «Vi ucciderò!» «Nessuno ucciderà nessuno!» Per oggi, obiettò una voce. Le guardie si scostarono. Alle loro spalle c'era un uomo alto, vestito di bianco. Indossava una sottile corona d'oro sulla testa e aveva la barba puntita come la lama di una lancia. I suoi occhi scintillarono crudeli. «Hai aiutato l'ateniese a uccidere il mio minotauro, Dedalo!» «Mi hai rivoltato contro la mia stessa figlia!» «Di questo dovete solo ringraziare voi stesso, maestà!» gracidò il vecchio. Una guardia gli assestò un calcio nelle costole. «L'uomo gemette dal dolore!» Il ragazzo gridò «Basta!» «Ami così tanto il tuo labirinto!» proseguì il re «che ho deciso di lasciarti qui!» «Questo sarà il tuo laboratorio!» «Ogni labirinto ha bisogno di un mostro!» «Tu sarai il mio!» «Non ho paura di voi!» gemette il vecchio. Il re sorrise freddamente e puntò gli occhi sul ragazzo. «Ma ogni uomo tiene al proprio figlio, no?» «Scontentami vecchio! E la prossima punizione che le mie guardie infliggeranno... toccherà lui!» Il re uscì rapidamente dalla stanza seguito dalle guardie e la porta si richiuse, lasciando il ragazzo e suo padre da soli al buio. «Che cosa faremo?» gemette il ragazzo. «Padre, ti uccideranno!» Il vecchio deglutì a fatica. Cercò di sorridere, ma con quella bocca insanguinata non era una bella vista. «Fatti coraggio, figlio mio!» guardò verso le stelle. «Io... troverò il modo!» Una sbarra calò sui battenti della porta, chiudendola irrevocabilmente. Boom! E io mi svegliai in un bagno di sudore freddo. Mi sentivo ancora scosso il mattino dopo, quando Chirone convocò il consiglio di guerra. Ci incontrammo nell'arena della scherma, anche se era strano discutere del destino del campo, mentre la signora O'Leary maciullava uno yak di gomma rosa a dimensioni naturali. Si sentiva uno squittio a ogni morso. Chirone e Quintus erano davanti all'armeria. Clarisse e Annabeth sedevano vicine, a capo della riunione. Tyson e Grover si erano piazzati il più lontano possibile l'uno dall'altro. Il resto dei convenuti erano Silenna Boregar, Travis e Connor Stoll, Juniper Ladriade, Beckendorf, Lee Fletcher e Argo, il nostro capo della sicurezza con cento occhi. La sua presenza mi confermò la gravità della situazione. Argo non si faceva vedere quasi mai, a meno che non ci fosse in ballo qualcosa di veramente grosso. Per tutto il tempo in cui Annabeth parlò, le tenne i suoi cento occhi azzurri piantati addosso. Sembrava un'unica pupilla iniettata di sangue. Luke sicuramente conosceva l'ingresso del labirinto, disse Annabeth. Conosceva ogni angolo del campo. Mi sembrò di avvertire una punta di orgoglio nella sua voce, come se provasse ancora del rispetto per lui, pur malvagio com'era. Juniper si schiarì la voce. È ciò che stavo cercando di dirvi ieri sera. L'ingresso di quella grotta è lì da molto tempo. Luke lo usava. Silena Boregar aggrottò la fronte. Sapevi dell'ingresso del labirinto e non hai detto nulla? La faccia di Juniper diventò verde. Non credevo che fosse importante era solo una grotta. E le vecchie grotte mi fanno schifo. A buon gusto, commentò Grover. Non ci avrei neanche fatto caso se... Beh, era Luke. Il verde sulle sue guance si fece un po' più intenso. Grover sbuffò. Come non detto. Interessante. Quintus parlava lucidando la spada. E voi credete che questo giovane, questo Luke, oserebbe servirsi del labirinto per invadere il campo? Ne siamo certi, confermò Clarisse. Se riuscisse a introdurre un esercito di mostri all'interno del campo mezzosangue, sbucando in mezzo al bosco senza doversi preoccupare dei confini magici. Saremmo spacciati. Ci spazzerebbe via come niente. Starà progettando questa mossa da mesi. Di sicuro ha inviato degli esploratori nel labirinto, aggiunse Annabeth. Lo sappiamo perché... perché ne abbiamo trovato uno. Chris Rodriguez, spiegò Chirone, con un'occhiata significativa a Quintus. Ah, esclamò lo spadaccino. Quello nella... sì, capisco. Quello nella... cosa? domandai. Clarisse mi fulminò con lo sguardo. Il punto è che Luke sta cercando un modo per orientarsi nel labirinto. Sta cercando il laboratorio di Dedalo. Ricordai il sogno che avevo fatto quella notte. Il vecchio insanguinato con i vestiti strappati. Il tizio che ha creato il labirinto. Sì, confermò Annabeth. Il più grande architetto, il più grande inventore di tutti i tempi. Se le leggende dicono il vero, il suo laboratorio si trova al centro del labirinto. Lui è l'unico in grado di orientarsi perfettamente al suo interno. Se Luke riuscisse a trovare il laboratorio e a convincere Dedalo ad aiutarlo, non dovrebbe più andare a tentoni per cercare la strada giusta, né rischiare di perdere il suo esercito nelle trappole del labirinto. Potrebbe arrivare ovunque, rapido e indisturbato. Prima al campo mezzosangue per eliminarci. Poi... sull'Olimpo. L'arena piombò nel silenzio, tranne per lo yak sbudellato dalla signora Oleiri. Squi! Squi! Alla fine, Beckendorf piazzò le sue grosse mani sul tavolo. Aspettate un secondo. Annabeth, in che senso convincere Dedalo? Ma non è morto. Quintus sbuffò. Spererei di sì. È vissuto... quando? Tremila anni fa? E anche se fosse vivo, le antiche leggende non dicono che riuscì a fuggire dal labirinto. Chirone si agitava sugli zoccoli inquieto. È questo il problema, mio caro Quintus. Nessuno lo sa. Circolano voci... beh, circolano molte brutte voci sul conto di Dedalo, una delle quali è che, giunto alla fine dei suoi anni, sia scomparso di nuovo nel suo labirinto. Potrebbe essere ancora laggiù. Ripensai al vecchio che avevo visto in sogno. Sembrava così fragile. Non gli avresti dato una settimana di vita. Figuriamoci tremila anni. Dobbiamo entrare, annunciò Annabeth. Dobbiamo trovare il laboratorio prima di Liu. Se Dedalo è vivo, lo convinceremo ad aiutare noi, non Liu. E se il filo di Arianna esiste ancora, faremo in modo che non cada mai nelle sue mani. Aspetta un secondo, intervenni. Visto che siamo preoccupati per un possibile attacco, perché non facciamo semplicemente saltare in aria l'ingresso? Perché non sigiliamo il tunnel? Idea grandiosa, concordò Grover. Vado a prendere la dinamite? Non è così facile, idiota, ringhiò Clarisse. Ci abbiamo provato a Phoenix. Ma non è andata bene. Annabeth Annui. Il labirinto è un'opera di architettura magica, Percy. Ci vorrebbe un potere enorme per sigillare anche solo uno dei suoi ingressi. A Phoenix, Clarisse ha demolito un intero edificio con una palla d'acciaio e l'ingresso si è spostato solo di pochi metri. La cosa migliore è impedire a Liu di imparare e a orientarsi al suo interno. Potremmo combattere, suggerì Liefletcher. Ora sappiamo dov'è l'ingresso. Possiamo organizzare le difese e aspettarli. Se un esercito prova a entrare, ci troverà ad aspettarlo con gli archi puntati. Organizzeremo senz'altro delle difese, concordò Chirone. Ma temo che Clarisse abbia ragione. I confini magici hanno tenuto al sicuro questo campo per centinaia di anni. Se Liu che riuscisse a portare un grosso esercito di mostri proprio nel suo cuore, saltando di netto i confini. Forse non avremmo la forza necessaria per sconfiggerli. Nessuno sembrò molto felice della notizia. Chirone di solito si sforzava di essere allegro e ottimista. Se ipotizzava che non saremmo stati in grado di respingere un attacco non era un buon segno. Dobbiamo raggiungere il laboratorio di Dedalo per primi, insistette Annabeth. Trovare il filo di Arianna e impedire a Luke di usarlo. Ma se nessuno è in grado di orientarsi là dentro, obiettai, noi quante possibilità abbiamo? Studio architettura da anni, rispose lei. Conosco il labirinto di Dedalo meglio di chiunque altro. Sulla carta? Beh, sì. Non basta? Deve bastare? Ti dico di no! Hai intenzione di aiutarmi oppure no? Mi accorsi che tutti ci guardavano come a una partita di tennis. Lo yak di gomma della signora Oleri fece iic mentre lei gli staccava la testa. Chirone si schiarì la voce. Una cosa per volta. Ci serve un'impresa. Qualcuno deve entrare nel labirinto, trovare il laboratorio di Dedalo e impedire a Luke di usare questo ingresso per invadere il campo. Sappiamo tutti chi dovrebbe condurla, intervenne Clarisse. Annabeth. Ci fu un mormorio di approbazione. Sapevo che Annabeth aspettava di condurre un'impresa fin da quando era piccola, ma ora sembrava in imbarazzo. Ti sei impegnata quanto me, Clarisse, replicò. Anche tu ne avresti diritto. Lei scosse la testa. Io lì dentro non ci torno. Travis Stoll scoppiò a ridere. Non dirmi che hai paura? Che c'è? Sei diventata fifona tutta un tratto? Clarisse si alzò in piedi. Pensavo che stesse per disintegrarlo. Invece rispose con voce tremante. Tu non capisci niente, pivello. Io lì dentro non ci torno più, mai più. E corse via. Travis si guardò attorno smarrito. Io non volevo... Chirone lo interruppe con un gesto della mano. Quella povera ragazza ha avuto un anno difficile. Ora siamo d'accordo che Annabeth debba condurre questa impresa? Annuimmo tutti, a eccezione di Quintus, che incoraggiò le braccia e fissò il tavolo. Ma non so se lo notò anche qualcun altro. Molto bene. Chirone si rivolse ad Annabeth. Mia cara, è ora che tu faccia visita all'oracolo. Se tornerai da noi tutta intera. Poi discuteremo della prossima mossa. Aspettare Annabeth fu più difficile che visitare l'oracolo di persona. Avevo assistito alle sue profezie due volte. La prima nella soffitta polverosa della casa grande, dove lo spirito di Delphi dormiva nel corpo mummificato di una vecchia hippie. La seconda nel bosco, quando l'oracolo era uscito a farsi una passeggiatina. Avevo ancora gli incubi al ricordo. Non avevo mai avvertito la presenza dell'oracolo come una minaccia, ma avevo sentito delle storie su ragazzi del campo impazziti oppure morti di paura, a causa di visioni fin troppo realistiche. Nell'attesa mi misi a camminare su e giù per l'arena. La signora Oleiri divorava il suo pranzo, un quintale di carne macinata e diversi biscotti per cani, grossi come il coperchio di un bidone della spazzatura. Chissà dove se li procurava Quintus. Non erano il genere di articoli che mettevi nel carrello in un negozio di animali qualsiasi. Chirone era assorto in una conversazione con Quintus e Argo. Ebbe l'impressione che di sentissero su qualcosa. Quintus continuava a scuotere la testa. In fondo all'arena, Tyson e i fratelli Stoll giocavano con delle bighe in miniatura che Tyson aveva costruito con i resti di vecchie armature. Smisi di fare il leone in gabbia e lasciai l'arena. Scrutai la finestra della soffitta della casa grande in fondo ai campi. Era buia e immobile. Perché Annabeth ci metteva così tanto. Io non ci avevo impiegato tutto quel tempo per ricevere la mia impresa. Persi. Mi sbigliò una ragazza. Juniper era in piedi accanto ai cespugli. Era strano come diventasse quasi invisibile quando si trovava in mezzo alle piante. Mi fece cenno di avvicinarmi con urgenza. Devi assolutamente sapere una cosa. Luke non è l'unico che ho visto aggirarsi attorno a quella grotta. Ma... che intendi? Si voltò verso l'arena. Volevo dirlo, ma c'era lui. Chi? Il maestro d'armi, rispose. Anche lui curiosava fra le rocce. Mi si strinse lo stomaco. Quintus. Quando? Non ne sono sicura. Lui è inquietante, Persi. Non l'ho nemmeno visto attraversare il bosco. È sbucato fuori all'improvviso. Devi dire a Grover che è troppo pericoloso. Juniper? Chiamò Grover dall'arena. Dove sei? Juniper sospirò. Meglio che torni dentro. Però tu ricorda quello che ti ho detto. Non fidarti di quell'uomo. Corse di nuovo via. Ripresi a scrutare la casa grande, più irrequieto che mai. Se Quintus aveva in mente qualcosa, ma dovevo sentire il parere di Annabeth. Forse lei avrebbe saputo che fare. Ma dove cavolo si era cacciata? Qualunque cosa stesse succedendo con l'oracolo non avrebbe dovuto durare così tanto. Alla fine non ce la feci più. Era contro le regole, ma tanto non mi stava guardando nessuno. Corsi giù dalla collina e attraversai i campi. La sala della casa grande era stranamente silenziosa. Era abituato a vedere Dioniso davanti al caminetto, a giocare a carte, mangiare uva e tormentare satiri. Ma il signor D non era ancora tornato. Imboccai il corridoio e le tavole del pavimento scricchiolarono sotto i miei passi. Arrivato ai piedi delle scale, esitai. Di sopra, al quarto piano, c'era la botola che conduceva in soffitta. Annabeth era lassù, da qualche parte. Rimasi immobile, in silenzio, con le orecchie tese. Ma non udì quello che mi aspettavo. Erano dei singhiozzi e provenivano da sotto, non da sopra. Mi avvicinai al sottoscala in punta di piedi. La porta della cantina era aperta. Non sapevo nemmeno che la casa grande ne avesse una. Sbirciai dentro e vedi due figure in un angolo, sedute fra pile di casse d'ambrosia e barattoli di conserva di fragole. Una era Clarisse. L'altra era un ragazzo ispanico un po' più grande di me, con i pantaloni mimetici e una maglietta nera e sudicia. Aveva i capelli sporchi e spettinati. Si inghiozzava, stringendosi le spalle. Era Chris Rodriguez, il mezzosangue che si era schierato con Luke. Va tutto bene, gli stava dicendo Clarisse. Assaggia un altro po' di nettare. Sei un'illusione, Mary! Chris si rannicchiò ancora di più nell'angolo. Vattene! Io non mi chiamo, Mary. La voce di Clarisse era gentile, ma molto triste. Non mi sarei mai aspettato di sentirla parlare con quel tono. Mi chiamo Clarisse. Ricordati, prego! È buio, gridò Chris. Troppo buio! Vieni fuori, propose Clarisse in tono allettante. Il sole ti aiuterà. Ci sono... ci sono migliaia di teschi. La terra lo mantiene sempre integro. Chris, supplicò Clarisse. Sembrava sul punto di piangere. Devi riprenderti. Il signor D tornerà presto. Lui è un esperto in queste cose, devi solo tenere duro. Gli occhi di Chris erano quelli di un topo in trappola. Fogli e disperati. È impossibile uscire, Mary. Impossibile! Poi mi vide ed emise un verso strozzato di terrore. Il figlio di Poseidone! È orribile! Mi ritrassi, sperando che Clarisse non mi avesse visto. Tesi l'orecchio, aspettando che si precipitasse fuori a urlarmi contro. Invece continuò a parlare con la stessa voce triste e supplicante di prima, cercando di convincere Chris a bere il nettare. Forse pensava che facessi parte della sua allucinazione, affascinazione, ma... il figlio di Poseidone? Chris mi guardava, eppure avevo la sensazione che non si riferisse affatto a me. Perché? E la dolcezza di Clarisse. Non mi era mai venuto in mente che potesse piacerle qualcuno, ma dal modo in cui pronunciava il suo nome, lo conosceva da prima del suo voltafaccia e molto meglio di quanto mi fossi mai reso conto. E adesso Chris era lì, in quella cantina buia, scosso dai brividi e terrorizzato all'idea di uscire. Ne borbottava il nome di una certa Mary. Non c'era da stupirsi che Clarisse non volesse avere niente a che fare con il labirinto. Cos'era capitato a Chris lì dentro? Udì un cigolio ai piani di sopra, la botola della soffitta che si apriva, e corsi via. Dovevo andarmene di lì. Mia cara, esclamò Chirone, ce l'hai fatta. Annabeth entrò nell'arena, si sedette su una panchina di pietra e fissò il pavimento. Ebbene? Domandò Quintus. Annabeth guardò prima a me. Non capivo se stesse cercando di mettermi in guardia o se l'espressione nei suoi occhi fosse solo paura. Poi puntò lo sguardo su Quintus. Ho udito la profezia. Condurrò l'impresa per trovare il laboratorio di Dedalo. Nessuno esultò. Sì, insomma, Annabeth piaceva a tutti e volevamo che le fosse assegnata un'impresa, ma quella sembrava folle e troppo pericolosa. Dopo l'incontro con Chris Rodriguez non volevo nemmeno pensare che potesse scendere in quel posto assurdo. Chirone smosse un po' di terra con lo zoccolo. Cosa dice esattamente la profezia, mia cara? Il modo in cui è formulata è importante. Annabeth fece un respiro profondo. Io, beh, dice, cercherai nelle tenebre del labirinto infinito. Aspettammo. Vedrai sorgere morti e traditori. E colui che è smarrito. Grover si illuminò all'istante. Colui che è smarrito? Deve essere Pan. È fantastico! Insieme ai morti e ai traditori, aggiunsi. Mica tanto. E, incalzò Chirone, com'è il resto? Il re degli spettri segnerà la tua vittoria o la tua pena, continuò Annabeth. L'ultima resistenza di un frutto della progenie di Atena. Tutti si guardarono attorno imbarazzati. Annabeth era figlia di Atena e l'ultima resistenza non suonava molto bene. Ehi, non dovremmo saltare a delle conclusioni, osservò Silena. Annabeth non è l'unico frutto della progenie di Atena, giusto? Ma chi è il re degli spettri? Chiese Begendorf. Non rispose nessuno. Ripensai al messaggio iride che avevo visto, con Nico che evocava gli spiriti. Ebbi la brutta sensazione che centrasse qualcosa con la profezia. Non ci sono altri versi? Chiese Chirone. La profezia non sembra completa. Annabeth esitò. Non me li ricordo bene. Chirone inarcò un sopracciglio. Annabeth era nota per la sua ottima memoria. Non dimenticava mai nulla di quello che sentiva. Infatti, si agitò un po' sulla panca, imbarazzata. Qualcosa tipo... cadrà quando un eroe terminerà la sua sorte. E... insistette Chirone. Annabeth si alzò in piedi. Sentite, il punto è questo. Devo entrare nel labirinto. Troverò il laboratorio che fermerò Liu. E... mi serve aiuto. Si voltò verso di me. Vieni? Non esitai un secondo. Sì. Lei sorrise per la prima volta da giorni. E io pensai che anche solo per quello ne valesse la pena. Grover, anche tu? Il dio delle selve ti aspetta. Grover sembrò dimenticare quanto detestassi i luoghi sotterranei. Quell'accenno a colui che è smarrito lo aveva riempito di energia. Metterò delle lattine in più nello zaino. E Tyson, aggiunse Annabeth, ho bisogno anche di te. Iuppi! Torniamo a fare boom! Tyson batte le mani così forte da svegliare la signora O'Leary, che sonnecchiava in un angolo. Aspetta, Annabeth, obiettò Chirone. è contro le regole. Un eroe può portare solo due compagni. Ho bisogno di tutti e tre, insistette lei. Chirone è importante. Non sapevo perché ne fosse così sicura, ma ero contento che avesse incluso Tyson. Non potevo neanche immaginare di lasciarlo al campo. Era grande e grosso ed era bravissimo con ogni genere di macchinario. A differenza dei satiri, i ciclopi non avevano problemi sotto terra. Annabeth, Chirone muoveva la coda a scatti, nervoso. Riflettici bene. Infrangeresti le antiche regole e ci sono sempre delle conseguenze. Quest'inverno sono partiti in cinque per salvare Artemide. Sono tornati in tre. Pensaci. Tre è un numero sacro. Ci sono tre parche, tre furie, tre dei dell'Olimpo figli di Crono. È un numero buono e forte, in grado di affrontare e superare molti pericoli. Quattro è rischioso. Annabeth fece un respiro profondo. Lo so, ma è necessario, la prego. Chirone non era affatto contento e si vedeva. Quintus invece ci studiava, come se stesse cercando di stabilire chi di noi sarebbe tornato vivo. Chirone sospirò. E va bene. La seduta è tolta. Che i membri dell'impresa si preparino a partire. Domani all'alba vi mandiamo nel labirinto. Quintus mi tirò da parte mentre il consiglio si disperdeva. Ho una brutta sensazione, mi disse. La signora Oleri si avvicinò scodinzolando. Mi mollò lo scudo ai piedi e io lo lanciai. Quintus la guardò scattare all'inseguimento. Ricordai quello che mi aveva detto Juniper, il fatto che l'avesse visto aggirarsi intorno al labirinto. Non mi fidavo di lui, ma quando mi guardò c'era autentica preoccupazione nei suoi occhi. Non mi piace l'idea che tu scenda laggiù, continuò. O che ci scendano gli altri. Ma se proprio devi, ricordati questo. Il labirinto è fatto per confondere, per distrarre. Ed è particolarmente pericoloso per il mezzo sangue. Perché noi ci distraiamo facilmente. Lei c'è stato? Tanto tempo fa. Aveva la voce stanca. Me l'ho scampata bella. La maggior parte non è così fortunata. Mi afferrò una spalla. Percy, concentrati su quello che conta di più. Se ci riesci, forse troverai la strada. Ecco, voglio darti una cosa. Mi passò un tubicino d'argento. Era talmente freddo che per poco non lo lasciai cadere a terra. Un fischietto? Chiesi. Un fischietto per cani, specificò Quintus. Serve a chiamare la signora Oleiri. Eh, grazie, ma come funzionerà nel labirinto? Non ne sono sicuro al cento per cento. Ma la signora Oleiri è un segugio infernale. È in grado di apparire quando viene chiamata ovunque sia. Mi sentirei meglio, sapendo che hai il suo richiamo. Se hai davvero bisogno di aiuto, usalo. Ma attento. Il fischietto è fatto di ghiaccio dell'ostige. Di che? Di ghiaccio ricavato dall'ostige. È difficilissimo da lavorare, molto delicato. Non si scioglie, ma si infrange al primo uso. Perciò potrai usarlo solo una volta. Ripensai a Liu, il mio vecchio nemico. Poco prima di partire per la mia prima impresa. Anche lui mi aveva consegnato un dono. Un paio di scarpe magiche che dovevano trascinarmi alla morte. Quintus sembrava gentile, preoccupato. E il fatto che la signora Oleiri lo trovasse simpatico deponeva in suo favore. Il segugio infernale arrivò proprio in quell'istante e depositò di nuovo lo scudo ai miei piedi, abbaiando eccitata. Mi vergognai di dubitare di Quintus, ma del resto una volta mi fidavo anche di Liu. Grazie, gli dissi. Mi infilai il fischietto gerido in tasca, ripromettendomi di non usarlo mai, e filai a cercare Annabeth. Per tutto il tempo che avevo passato al campo non ero mai entrato nella casa di Atena. Era un edificio argentato, niente di frivolo, con delle semplici tende bianche e un gufo di pietra appollaiato sopra la porta. Ebbi la sensazione che i suoi occhi dionice mi seguissero mentre mi avvicinavo. «Si può?» esclamai, rivolto all'interno. Non rispose nessuno. Entrai e trattenmi il fiato. Quel posto era un laboratorio per cervelloni. I letti erano addossati contro una sola parete, come se dormire fosse una faccenda del tutto secondaria. La maggior parte della stanza era ingombra di banchi da lavoro, tavoli, attrezzi e armi. In fondo c'era un'enorme libreria zeppa di vecchie pergamene, libri rilegati in pelle e tascabili moderni. C'era un tavolo da disegno con un bel po' di squadre e goniometri e qualche modellino di edifici. Vecchie ed enormi mappe di guerra tappezzavano il soffitto. Pezzi di armatura erano appesi alle finestre, le piastre di bronzo che luccicavano al sole. Annabeth era lì, a scartabellare fra le pergamene. Toc toc! Esclamai. Si voltò di soprassalto. Oh, ciao, non ti avevo sentito. Stai bene? Lei guardò la pergamena che aveva in mano, con la fronte aggrottata. Stavo solo provando a fare qualche ricerca. Il labirinto di Dedalo è talmente enorme e le storie che lo riguardano non concordano mai su nulla. Le mappe non portano da nessuna parte. Ripensai a quello che aveva detto Quintus, a come il labirinto avesse la capacità di confonderti. Mi chiesi se Annabeth lo sapesse già. Troveremo un modo, promisi. Le si erano sciolti i capelli, che adesso le ricadevano in una tendina bionda e spettinata sul viso. I suoi occhi grigi sembravano quasi neri. È da quando avevo sette anni e desidero un'impresa, disse. Te la caverai benissimo. Mi guardò con gratitudine, ma poi scrutò tutti i libri e le pergamene che aveva tirato giù dagli scaffali. Sono preoccupata, Percy. Forse non avrei dovuto chiederti di partecipare. E non avrei dovuto chiederlo nemmeno a Tyson e a Grover. Ehi, siamo amici. Non ce la saremmo persa per niente al mondo. Ma... si fermò. Che c'è? chiesi. La profezia? Sono sicura che andrà bene, disse con un filo di voce. Cosa dice l'ultimo verso? A quel punto, Annabeth fece una cosa che mi sorprese sul serio. Ricacciò indietro le lacrime e mi tese le braccia. Io feci un passo avanti e l'abbracciai, con le farfalle nello stomaco più scatenate che a un concerto rock. Ehi, va tutto bene? Le diedi dei colpetti sulla schiena. Riuscivo a percepire in modo nettissimo ogni singolo particolare della stanza. Avevo la sensazione di riuscire a leggere perfino i caratteri più piccoli di ognuno dei libri sugli scaffali. I capelli di Annabeth profumavano di shampoo al limone. Tremava. Forse Chironi ha ragione, mormorò. Sto infrangendo le regole, ma non so che altro fare. Ho bisogno di voi tre. Sento che è la cosa giusta. Allora non preoccuparti, riuscì a dire. Abbiamo affrontato un sacco di problemi in passato e li abbiamo risolti. Stavolta è diverso. Non voglio che succeda nulla di male a nessuno di voi. Alle mie spalle, qualcuno si schiarì la voce. Era uno dei fratellastri di Annabeth Malcolm, rosso come un pomodoro. Scusate, disse. La lezione di tiro con l'arco sta per iniziare, Annabeth. Chironi ha detto di venire a cercarti. Mi scansai subito. Stavamo solo guardando le mappe, farfugliai come uno stupido. Malcolm mi fissò. Ok. Di a Chironi che arrivo subito, gli rispose Annabeth e Malcolm corse via. Annabeth si strofinò gli occhi. Tu va avanti, Percy. È meglio che mi prepari per il tiro con l'arco. Annui, più confuso di quanto mi fossi mai sentito in vita mia. Sarei voluto scappare, ma non lo feci. Annabeth, esclamai. A proposito della profezia, il verso sull'eroe che terminerà la sua sorte... Ti stai chiedendo di qual'eroe si tratta? Non lo so. No, un'altra cosa. Stavo pensando che, di solito, l'ultimo verso è in rima. Non è che c'entra la parola a morte, per caso. Annabeth tenne lo sguardo fisso sulle pergamene. È meglio che tu vada a prepararti, Percy. Ci vediamo domattina. La lasciai lì, a fissare quelle mappe che non portavano da nessuna parte. Ma non riuscì a scrollarmi di dosso la sensazione che uno di noi non sarebbe tornato vivo da quell'impresa.